Miracolo a Milano recitava il titolo di un celebre film del dopoguerra firmato da Vittorio De Sica. Titolo cucito su misura all'impresa prodigiosa della Carpegna Prosciutto Pesaro che in una domenica di grazia rovescia un pronostico che sembrava assegnato riscrivendo invece un capolavoro in casa dei campioni d'Italia. Vittoria peserese in casa Armani che mancava da cinque anni e mezzo. La Vuel rialza la testa proprio nel momento più complicato sorprendendo tutti sul parquet del Mediolanum Forum. 82-90 il punteggio finale di una gara in costante equilibrio durante la quale i ragazzi di coach Buscaglia hanno mostrato eccellente organizzazione in fase offensiva e la giusta aggressività in difesa. Un'incredibile prova corale che ha portato bene sei uomini in doppia cifra con il solito totè primo violino protagonista ancora una volta di una prestazione eccellente da 20 punti. Ma benissimo anche gli americani, Ford su tutti ma anche McCallum, Bamford e Bluiet vengono galvanizzati dal palcoscenico d'Elite e apparecchiano una vittoria costruita su una partenza in fuga nel primo quarto e di puntuale reazione alla rimonta dell'Olimpia capace di andare a più otto a inizio ripresa. Vittoria che si concretizza nell'ultimo parziale regalando il secondo successo a Buscaglia che nonostante uno straniero in meno in vista dell'avvicendamento Schilling-Moccevicius si dimostra più bravo di Messina che di fatto esagera col turnover in ottica Eurolega risparmiando pezzi da 90 come Melli e Shields. Per la VL sono altri due punti in classifica ancora ottenuti in trasferta che ora dovranno essere il propulsore per provare a gioire anche in casa con Napoli nel match di sabato prossimo.